Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli EPS. Io sono Davies e lei è mia mamma. Ciao a tutti! Allora, oggi vi vogliamo far partecipi di questa cosa. Abbiamo trovato questo qui. E che cos'è? Io sono emozionatissima. Davies, tu come ti senti? Io sono agitata, sono agitata perché abbiamo appena ricevuto la lettera di Giacomino Pio. E ora ve la leggiamo. Ascoltate attentamente. Rieccomi, sono Giacomino Pio. Preparatevi perché sto per darvi una notizia strabiliante. Visto che avete dimostrato di voler conoscere il mio mondo, vi indico il primo step di questo magico percorso. Dovete raggiungere una città famosa per il suo Duomo e lì troverete ciò che vi servirà. Buon viaggio a presto! Aspetta, ma se c'è scritto Duomo, ah, Duomo è tipo la Torre Infel. No, no, no. Dico. Dobbiamo rimanere in Italia. Il Duomo, uno dei Duomi più famosi, ma quello che mi viene in mente subito, è il Duomo di Milano. È vero, Milano. È il Duomo di Milano e quindi capite cosa significa questo? Significa che lì troveremo qualcosa, probabilmente un'altra pietra, forse. Esatto, preziosa, che ci servirà per ottenere informazioni ed elementi aggiuntivi per creare poi quello che sarà il rituale, il passaggio nel portale che ci porterà nel suo mondo. Sì, è vero. E quindi siamo agitatissimi perché adesso cosa dobbiamo fare, Davis? Dobbiamo partire per Milano. Dobbiamo partire per Milano. Noi prima l'avevamo già letto, non ce la facevamo a leggerlo dopo. E quindi abbiamo già prenotato i biglietti per oggi e possiamo andare a Milano. E stiamo per partire, voi ci seguirete in tutta questa avventura. Eh sì, che bello, ma non vedo l'ora, quindi andremo a Milano, guarderemo la città, le cose belle della città, andremo al Duomo, faremo tantissime cose belle, andremo a vedere i navigli. Bello, 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 sarà un'esperienza piena di sorprese, è vero? Sì, sì. Bene, allora, ma cosa aspettiamo? Il treno non ci aspetta. È vero, Dio. Il treno è aereo perché prendiamo il volo. È vero. Prendiamo l'aereo perché noi siamo a Milano, ovviamente. Ecco, il treno ci metteremo tanto tempo. Eh sì. A presto, alla prossima avventura. Ciao, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, siamo arrivati all'aeroporto di Bari e siamo pronti per prendere l'aereo. Sì. Io sono emozionatissima, Davies, sto immaginando tantissime cose. Il momento in cui rivediamo a Milano, ma soprattutto anche il tragetto con l'aereo. È vero. Vedremo le nuvole, saliremo sulle nuvole, ne vedremo dall'alto tutto il panorama. Poi ovviamente riprenderemo delle scine in aereo, giusto? Certo, certo. E allora, bimbi, tra poco, adesso ci tocca fare tutti i controlli. Eh sì. Tra un po', ciao. Ciao. Allora ragazzi, ci siamo... Allora, stavamo per scannerizzare i codici per andare nell'aereo, ma poi ci siamo accorti che era prestissimo. Quindi abbiamo detto, andiamo al bar a prendere qualche cosa e alla fine siamo andati al bar. Io ho preso un bel Tinder Bueno e la mamma un bel caffè. Buon caffè che sto già bevendo. Bene, questa era la pausa barra e adesso stiamo per imbarcarci. Sì. Alla salute. Bene ragazzi, siamo in aereo. Siamo in aereo ragazzi. Siamo pronti per partire. Sì. Vieni, si parte. E sì. Due, uno, via. Io lo sto portando. Ladies and gentlemen, at this time, please direct your attention to the cabin crew. Asi demonstrate the safe features of this aircraft so that in the unlikely event of an emergency you'll be prepared to know what to do. Please remove your... Siamo in aereo ragazzi. 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 Ci parlate dei suoi trembali. Graizade dei ratti di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.